Benvenuti in questa lussissima serie in collaborazione con Stepney e Vegas Perché sto facendo questa voce? Non ne ho idea Però, siamo su una mappa che ha già fatto Stepney Ma questa volta siamo in tre Lui era da solo, noi siamo in tre E quindi apprezzare tantissimo se lasciamo a 5.000 mi piace 5.000, 5.000, è facile come numero No, insomma sì che è facile E lascialo un cazzone di piace Buona visione Chi tocchi la dinamita e siamo finiti Lo sballe, lo sballe Ma la smettete? Ma vogliamo iniziare a registrare? Iniziamo, ci siamo Ciao a tutti e benvenuti in questo episodio di... Come si chiama sta mappa? Island of Junaera Siamo qui in tre Come ben sapete Stepney ha già fatto sta mappa Me l'ha fatta da solo come un cane E io sono molto più sociale Lui è sociale Ho mandato una sfida assurda e gli ho detto Non hai il coraggio di fare sta mappa sul tuo canale Perché è troppo difficile per te E quindi siamo qua in tre Fa bene Fa bene, esatto E quindi siamo qua con Veccaf E con Darkjoker 90 che non so chi sia in realtà Però va bene lo stesso Sei un genio, sei un genio Allora, come si gioca? I brividi Il normale è una CTM Dobbiamo completare il monumento Si, allora Welcome to Sky Survival The Island of Junaera Read everything on from beginning To start pull the lever Si, ok Ho tirato la leva No, no Prendi tutto Tra quanti secondi? Tra quanti secondi? Tra quanti secondi? Ma come hai tirato la leva? Eh oh, ho visto una leva e l'ho tirata Allora io spero per la tua vita E tu abbia preso il secchio di lava Se no è come se non avessimo fatto niente Quale secchio di lava? Non hai preso il secchio di lava Non hai preso il secchio di lava Quale lava? 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 Quale lava? Ah no! Sei caduto con il ghiaccio Ma dai Ti ho visto Oh no, no, è ancora vivo È ancora vivo Oh mamma, te sei drogato Ragazzi No, no No, aspetta Aspetta Dov'è il legno? Dammi il legno Oh mamma mia Se sei Madonna che ti droghi Allora no, io ti butto il legno E tu con i blocchi Vai madonna Vai fino al Vai fino al coso d'acqua Ok Devi buttarmeli sotto i piedi Oh madonna La lava c'è qui davanti a me Ma devi buttarmi qualcosa per risalire Allora Allora Aspetta, aspetta Mi stai malissimo Vedete Dove sei? Oh, mi vedi Stepney? Mi vedi? Sì, vomita pure Vomita Eh, preso Preso Ok Vedo se ne trovo altri No, aspetta, aspetta Forse non ce n'è bisogno Perché? No, non fare cazzate No, me ne serve un altro legno Me lo dai un altro di legno? Eh, vedo ce lo trovo No, i cubetti con il lato 4 Vai, te lo lancio io Butta addosso Ah, ok, ok Preso Ok Allora, intanto, episodio 1 Rescue Step Sì, insomma Grazie Allora Allora No, che cadi Madonna Che sei un genio Ma no, ma no Usa il legno il todato Fai Oh, madonna Non ti preoccupare, veramente no Oh, mamma mia Qua c'è una spada Qua c'è una spada Non ci hai fatto controllare le chest Prima di attivare il bottone Ma non bisognava controllare le chest Prima di fare il bottone Sì, è fondamentale No, è che bisognava fare così A caso servivano Eh, no Eh, bisogna fare a caso apposta Perché altrimenti se controlli prima Tanto è che le prendi prima Scusa No Tu che cos'hai preso Il timer è quello Il timer è quello Il timer è quello Il timer che attivano il pulsante E il tempo per raccogliere le cose necessarie C'è anche scritto nelle regole Tu non l'hai lette Eh, allora abbiamo potuto prendere tutte le cose in teoria, no? Esatto Tu cos'hai preso? Io c'ho un pantalone Due lingotti di ferro Uno smeraldo Sei pezzi di charcoal Due pozione Ecco, allora hai due lingotti di ferro Sì Scavate e trovate un terzo In modo da fare un secchio E buttarmi l'acqua di sotto L'acqua di sotto L'acqua di sotto Ottimo idea Che idea Ah, là c'è nel ferro Per buttarti l'acqua Basta fare una sorta di Ma scusa, ti ho dato un legno Fai un cazzo di ponte con legno Guardatemi Guardatemi No, no, va che ci muore Guardatemi Va che ci muo- No, ci muore Mamma mia PANZAI Oh no, sto cadendo Madonna Madonna Lo sono Bear Grylls Nel letto Il sopravvissuto dei Oddio C'è uno squid che è volato via Sali Sali Non mettere l'inventario C'è la roba C'è una chest qui sotto Con delle cose Ecco, ora muo C'è una però Che c'ha della TNT Eh, non la prendere Se hai una trapdoor ti esplode addosso poi Aspetta Ma... 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 Qui c'è lo... Mi serve il ferro Mi serve ferro Aiuto... Vabbè io faccio un po' di roba dai Ma perché c'è anche un portale del Nether C'è... Madonna Oh qualcuno mi sta col- Chi ha... Mi ha colpito? Hai perso la fame Stai tranquillo Non ce l'ho alle cosciotte, non ho perso la fame, mi hai colpito te Ma cosa? Come ce l'ho arrivato? Che stronzo sei Ma che... Qui ci sono delle ossa Di tutte le ossa Che ci serve la farina d'ossa Ok, però io c'ho due alberelli se serve, anzi sì che serve Ok, nella scena ha scritto This is a trap, ma io ho rotto la TNT prima Oh madonna Io non so come fate a seguire Stephanie Sto arrivando, guardate dove arrivo Ma dov'è? What a fucking surprise for you, what a fucker Che cazzo sei? Ma dove? È uscito da qua Ho fatto un buco nella montagna Madonna Eh, quella era una trappola Fammi salire Adesso iniziamo a fare qualcosa di serio Allora, per fare qualcosa di serio Devi un attimo Allora, io c'ho gli alberelli e 21 pezzi di bone meal Allora adesso Mi la fai gli alberelli 14, perfetto Tu hai i pezzi di fettro, gli hai giaccotti o no? Sì sì, sono già cotti Ok Allora dovremmo fare così Vado a prenderne Io vado a prendere il terzo giù E dov'è? Ah perché sei già dov'è? È qui sotto, l'ho visto salendo Ah ok Ah ma qua c'è anche la mappa tra l'altro Dobbiamo fare il... La mappa è dettagliata che tu sappia Il cobblestone generator è importantissimo Vai Suri Fai il cobblestone generator Eh, senza lava come? Vabbè la lava la prendiamo appena abbiamo il secchio La lava avrei voluta averla Facciamo il tutto Ok, allora aspetta Ah, lavero del ferro Lavero del ferro La vedo del ferro Cosa non capisci? L'italiano, eh? Maronne No, che miseria Cos'è? No, madonna Dove... Nooo Madonna Non dimmi che avevi già preso il coso di ferro No, non l'avevo preso tranquillo Mamma mia Eh ragazzi è difficile questa mappa Eh sì Ma cosa è difficile? Se non vai con attenzione Eh, è vero Se avessimo preso la lava non morire Non sarei morto Perché col cavolo andavo là Allora per fare il cobblestone generator Allora sta diventando notte ragazzi Sta diventando notte Ah sì? Ah, di già? Oh, ho trovato un oggettino qua Ragazzi vi ricordo che questo è il monumento, eh La completata Lorina a vedere il monumento, dai Ok, ho fatto il cobblestone generator Senza male, senza secchio Come ci arrivo là? Ah, così Vieni qua? Ok Guarda, c'era questa roba nella chest Grazie, lo apprezzo Cos'è sta roba? Ah, i coloranti Che ci fanno quei coloranti? Scusate ragazzi, la tosse ma è colpa di Stepney Si possono piantare i semi di cacao, vero? Cosa? Si vede l'ebola dal cacao Oh my god Eh, ci abbiamo dei letti, no? Facciamo qualcosa di utile Allora, io vi assicuro di questa mappa Uh, qua c'è una cesta Non so in che difficoltà la Missa Vegas Ma tu hai fatto una grande cazzata A non prendere la chest La cosa di lava Eh, tu non mi avverti Tu stai a cazzeggiare Eh, ma io ho visto una leva, scusa Vabbè, metti quegli alberelli Io ho questa per voi Allora, calma, spiegati Eh, li ho messi nella cesta Se volete favori Favori di cosa? Niente Niente No, 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 calma, calma, calma Perché c'è una palla di vetro? Allora, occhio perché là non nascono i ragni, ve lo dico, eh Lì c'è lo spunto Ragnino, ragnino Ragnino, ragnino Sì, il problema non sono tanti ragni in queste sporgenze Sono tanto quanto gli scheletri il problema No, il problema maggiore ora è Che ci serve Che ci serve cibo Eh, ma il cibo puoi anche morire Tanto le spunto Io ho i cacao beans I cacao beans, aha E che ci fai col cacao? Come ci faccio? Cacao, meraviglia Che ci fai? I biscotti Eh, ma ci serve anche il grano Dove lo trovi il grano? Anche il grano, servo Eh, boi, mica, mica solo con cacao Dove sta andando, Stefani? Oh, madonna Madora che mi ha avuto un colpo Oh, oh, oh Eh, la fame Mamma mia Io ho paura No, 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 no Qua, no, ma questa è mafia Allora Sì, ti ho trovato un cubetto di ferro Alleluia Eh, guarda che se ti caso Vale, però, ti picchio Oh, madonna i colpi Penso io, ragazzi Durri, ma dove li hai messi gli alberelli? Eh, nella cesta Nella cesta Perché non li pianti? Eh, perché non c'è Ho paura che non ci sia abbastanza spazio A farli crescere Ok Ma sei un genio Non abbiamo legno Eh, non li ha piantati? Non li ha piantati? Ma io, ma scusa Ma qua ci sono cose Io mi... Piantale Prendi il bomb mia L'ho preso, ho preso Ma non piazzarli la Che c'è vicino l'ossidiana Poi Allora qua Questo non ti crescerà mai Mi consiglio di metterlo qua Questo non è cresciuto Mi nasceva sempre L'albero gigantesco Dai, è buono, buono, buono Allentato prendo il cubetto Dai, prendiamo un po' di legno E facciamo qualcosa di decente Con calma, con calma Però, eh Mi raccomando Che sennò qua Il peggio madre Ma chi è Mad Goblin? Chi è Mad Goblin? È il creatore della mappa Il creatore della mappa Perché? Ah, eh Si vede che è morto Tipo Non lo so Non lo so